Sono contento perché abbiamo giocato due buoni, anzi direi ottimi due quarti, abbiamo giocato molto bene sia in difesa che in attacco, con una certa costanza e continuità sull'altro difensiva, abbiamo giocato bene anche nel terzo e nel quarto quarto in difesa, giocando male in attacco, soprattutto perché non avevamo condizionato il pessimo. Questo ha condizionato pesantemente la nostra partita, anche perché poi gli spazi si chiudevano, ma comunque poi alla fine abbiamo preso i tiri che noi dobbiamo prendere, credo che Cristian ha fatto quattro tiri a testa, tre punti aperti che l'hanno segnato, però sono sostanzialmente due tiratori in questo momento per questa inchiesta fisica. Non hanno fatto canestro, però ripeto, segnali confrontanti ci sono, continueremo a cercare di migliorare la difesa, poi magari aggiungendo un altro giocatore che possa darci una mano, soprattutto ad essere un po' più lunghi sulle rotazioni e quindi dare la possibilità anche a questi giocatori di Puerini di rifiattare, penso che siamo comunque sulla buona strada. Poi ci danno decimi, va benissimo. Si sa, Varese sanno che sono abituato a essere discriminato e sono sicuro che i miei giocatori impareranno a vivere questa discriminazione in questo momento, come se fossero percedersi un po' distratati e questo ci dà la forza per reagire. No!